Girati che ti vediamo Ceci! Girati Ceci! Cecilia gira! Grazie! Scuola primaria Esmondo e amici di Saranzano. All'uscita della scuola si trova un'anguola. Sta di lavanda Mirto, Tino e Rosmarino e su di essa si posa un tenero uccellino. Gli alunni delle classi quinte 2012-2013 per tutti i bambini che frequenteranno questa scuola. Ed ora in occasione proprio dell'aiuola una canzone creata apposta. The Multicolor Flower Bed su un motivo conosciutissimo, The Lion Sleeps Tonight. Gli alunni delle classi quinte concluderanno questa breve cerimonia dell'inaugurazione. Ricordo a tutti che domani mattina l'orario è spostato alle 10.30 come da circolare, anziché le 10. Quindi ci troviamo alle 10.30 presso il giardino della scuola secondaria per la merenda ecologica. E dopo questa canzone invito invece i genitori dei ragazzi della quinta C e quinta D un attimino in Aulalim. Per gli alunni dei genitori delle classi quinta A e quinta B invece ci sarà un altro momento. Bene, adesso ascoltiamo The Multicolor Flower. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.